Una grandissima manifestazione, quella della Final Four di Coppa Italia di Serie A3 che abbiamo organizzato qui a Fano, una cornice di pubblico straordinaria. La squadra non è riuscita a portare a casa il titolo ma si è espressa veramente a dei livelli molto elevati contro una squadra attrezzatissima sia per vincere la Coppa Italia che per salire in campionato e è stato uno spettacolo davvero grandioso, tanto pubblico, una pallavolo di altissimo livello. Grazie per la visione!